Foravano il pneumatico lato guida delle autovetture di anziani, intenti a fare spesa in esercizi commerciali. Poi, approfittando della confusione di queste persone, in qualche modo riuscivano a rubare borselli e oggetti vari. Tre pregiudicati napoletani sono finiti in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso. A effettuare gli arresti, gli agenti della squadra mobile di Napoli e della sezione Falchi della Questura di Salerno. Molteplici gli episodi che sono stati infatti segnalati in tal senso negli ultimi mesi. A Rocca Piemonte, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Salerno e nel Napoletano e sempre nei paraggi di supermercati. I malviventi individuavano il soggetto da colpire e mettevano poi a segno il furto. I tre avrebbero agito quasi sempre di sabato e domenica, quando i negozi sono affollati e per loro è più facile agire. L'ultimo episodio, a quanto pare, è avvenuto sabato scorso 2 giugno, quando fu messo a segno un furto ai danni di un anziano. A intervenire gli agenti della mobile di Napoli, che avevano subito individuato però una Fiat Panda con a bordo tre soggetti. Ieri pomeriggio, in pieno centro a Napoli, i poliziotti hanno avvistato l'auto, seguendola fino a un centro commerciale nei pressi di Ponte Cagnano e chiedendo così la collaborazione degli uomini della sezione Falchi di Salerno. L'autovettura veniva parcheggiata in una stradina di Ponte Cagnano accanto ad un ufficio postale. A bordo rimanevano un 52enne e un 49enne, mentre un'altra persona di 22 anni si allontanava per poi tornare di corsa a sedersi nella stessa vettura. L'auto partiva rapidamente in direzione Salerno. Gli agenti, invece, si erano già accorti che alle spalle dell'autovettura dei ladri un'automobilista era intento nella sostituzione del pneumatico della sua vettura, ma senza immaginare che gli fosse già stato rubato il borsello. I poliziotti hanno così seguito la Fiat Panda e giunti in una piazza di Ponte Cagnano hanno notato un occupante scendere dalla stessa, gettando in un cassonetto un sacchetto che è stato poi recuperato dagli agenti. All'interno è stato rinvenuto un borsello, appena rubato, oltre a effetti personali e altri oggetti della vittima. Dopo averli prontamente fermati, sottoponendoli a controllo, gli agenti hanno rinvenuto sotto il sedile anteriore della Panda un cellulare, riconosciuto poi dalla vittima del furto come proprio. I poliziotti hanno proseguito le loro ricerche per individuare il terzo complice e poco dopo lo hanno trovato all'interno della stazione di Ponte Cagnano con un biglietto in direzione Napoli. Controllato, sottoposto a perquisizione dagli agenti, indosso il giovane aveva un coltello a serra manico di 8 cm con lama di 4 cm e la somma di 100 euro. Dopo le formalità di rito i tre sono stati arrestati e portati al carcere di Forni a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini perché potrebbero essere proprio questi tre pregiudicati i protagonisti, come si diceva, di altri numerosi episodi simili.